Cosa avviene in un pronto soccorso quando c'è un codice rosso in arrivo? Cosa accade nella emergency room dove i medici lottano contro la morte? E quali sono le modalità di accesso e in quali casi bisogna recarsi al pronto soccorso? Per questa prima puntata di Missione Salute e Istruzioni per l'Uso, in studio ad aprirci le porte al loro prezioso lavoro, il direttore dell'unità operativa di pronto soccorso e medicina d'urgenza, Stefano Loffreda, e il responsabile del presidio di Fano, Giancarlo Titolo. Il tema della prima puntata è il pronto soccorso, la mission del pronto soccorso per il quale è strutturato. Cogliamo con grande piacere questa opportunità di comunicare con i nostri concittadini, ai quali noi siamo molto affezionati e per i quali noi penso offriamo un servizio buono, aperto 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, senza esclusione. Spero di avere appunto questa occasione anche di interagire con loro telefonicamente per raccogliere elogi e critiche costruttive. Allora, l'emergency room è il cuore pulsante del pronto soccorso, lì si gestiscono le vere emergenze, quelle per le quali voi siete predisposti, i codici rossi. Esatto, sì. I codici rossi vengono praticamente triaggiati all'interno dell'emergency room, della shock room e tutto quanto si svolge all'interno di quella stanza. È una sorta di sala operatoria, insomma, a grandi linee del pronto soccorso, dove ci sono monitoraggio, dove siamo in grado di effettuare interventi salvavita, quindi stabilizzare il paziente e destinarlo all'unità operativa più appropriata. In questa prima puntata e in tutte le altre, nella seconda parte del programma, potrete rivolgere domande direttamente ai medici in studio, intervenendo in diretta telefonicamente, chiamando Fano TV.